qualche acciaccato, valuterò fino all'ultimo secondo le condizioni dei singoli giocatori, in base a quello farò la formazione. Ma è stata camara euntica molto con Braglia allenatore, nelle ultime partite ha sempre adottato, da quando si è mister Gautieri, ha sempre adottato il 3-5-2, leggo e sento che possono cambiare domani. La squadra è pronta, come dico sempre io, a occupare gli spazi in base anche ai movimenti degli avversari, abbiamo lavorato su diverse soluzioni, ma me le tengo per me. Ripeto quello che ho detto prima, l'Avellino è una squadra costruita in tutti i suoi effettivi per giocarsi il campionato, quindi ha 24 titolari, ha cambiato un po' con l'allenatore, un attore che conosco, quindi è una squadra che ha una forza importante.